Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora un arresto per spaccio a campo di Marte. È stata la squadra a volanti della questura di Arezzo a fermare un uomo che temendo di essere sottoposto a un controllo ha tentato la fuga e gettato a terra un involucro di cellofan subito recuperato. Conteneva dieci stecchette sigillate singolarmente di hashish. L'uomo con numerosi precedenti specifici è stato fotosegnalato e sottoposto a perquisizione personale. Sequestrati anche banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. E adesso andiamo a Cortona dove dei cuccioli di cane sono stati ammazzati e poi gettati in un cassonetto. A denunciare l'accaduto è stato il canile di Ossaglia. Sono stati colpiti, infilati in un sacco e gettati in un cassonetto tra le frazioni di Pergo e Sant'Angelo nel Cortonese. La cucciolata di cagnolini è stata ritrovata da una signora del posto mentre gettava la spazzatura e portata in un disperato tentativo di salvarli al canile di Ossaglia. La donna, dopo aver sentito dei lamenti, ha infatti subito intuito la presenza di un animale, l'unico cagnolino sopravvissuto in un primo momento, ritrovato in condizioni disperate che purtroppo poche ore dopo non ce l'ha fatta. A denunciare il fatto è lo stesso canile di Ossaglia. Ogni mattina scrivono sui social Ci svegliamo con la certezza di essere nel 2023, ma poi improvvisamente ci ritroviamo nel Medioevo. Pratiche inammissibili che turbano un'intera comunità, ha invece commentato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Auspichiamo che le forze dell'ordine possano individuare l'autore di questo gesto. La nostra comunità respinge ogni atteggiamento violento nei confronti degli animali. Vogliamo esprimere, conclude, il nostro sostegno ai volontari del canile e alla persona che ha fatto la scoperta. La FIMER è a tutti gli effetti di Greybull McLaren. Come annunciato dalla stessa società inglese, spetterà a Semenco che il compito di rilanciare l'azienda di Terra Nuova Bracciolini. FIMER è a tutti gli effetti di Greybull McLaren. La società inglese ha infatti annunciato di aver completato con successo il versamento della prima trans di 5 milioni di euro, nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni di euro, acquisendo il 100% della proprietà. Operazione condotta in piena conformità con i termini stabiliti dal Tribunale di Milano, che lo scorso 24 agosto ha dato il via libera alla richiesta di iniezione urgente di nuova finanza. Ulteriori capitali saranno investiti secondo le necessità e in linea con l'approvazione del Tribunale milanese. A questo passaggio segue poi l'ufficializzazione delle dimissioni del CDA in carica e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, all'interno del quale Greybull McLaren avrà la maggioranza. Nominati infine Semenco del ruolo di Cro, incaricato di condurre la società in un percorso di rilancio e di affrontare con determinazione le sfide future. I nostri piani sono chiari, fa sapere la società. Vogliamo riaffermare FIMER come leader mondiale nel suo settore. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Sembrerebbe dunque scongiurato il fallimento dopo la lunga serie di colpi di scena degli ultimi mesi. Parliamo adesso di scuola. Manca poco al suono della prima campanella. Un primo giorno che anche quest'anno deve fare conti con vecchi problemi. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Presidi Toscana. Ecco, a poche ore dal suono della prima campanella mi verrebbe da dire anno nuovo, problemi vecchi. Il problema dei problemi è l'assignazione delle cattedre. Alcuni istituti, la maggior parte peraltro, sono costretti a fare ancora un orario ridotto, uscite anticipate perché non ci sono i professori. Certo, questo è un problema purtroppo pregresso, un problema vecchio cui in qualche misura ci siamo abituati. Ora, questo problema va analizzato da un duplice punto di vista. Uno del paese in generale è il fatto che i laureati diminuiscono sempre di più, cioè perlomeno che non cresce il numero dei laureati, anzi diminuisce. Per quanto riguarda la scuola nello specifico, io vorrei far presente anzitutto questo, che la logica delle graduatorie non funziona più. Fa acqua da tutte le parti. Il fatto che siano state anticipate quest'anno le operazioni di assegnazione delle cattedre di cinque giorni, questo è indubbiamente un elemento di merito, ma è del tutto insufficiente, perché poi i vari provveditorati, gli uffici provinciali, sono costretti a pubblicare e a ritirare immediatamente le graduatorie, perché non si riesce a far fronte ad un sistema che è così complesso, ridondante e che va al di là anche della buona volontà dei singoli funzionari, che pur talvolta sbagliano anche loro e di questo bisognerebbe tener conto. Comunque, quindi, il sistema delle graduatorie non funziona. Era un sistema che garantiva una apparente oggettività e neutralità. Io ritengo che non la garantisse, perché la laurea nella città X e la laurea nella città Y, pur essendo lo stesso tipo di laurea, non hanno lo stesso valore, perché vi sono delle facoltà in cui si distribuiscono 110 e lode in abbondanza, altre in cui ci si laurea con la media del 95. Poi vi sono modi per salire nelle graduatorie di posizione, per esempio acquisendo dei titoli di perfezionamento e quant'altro. E questi titoli di perfezionamento, anche essi in alcuni casi, si ottengono grazie al pagamento dell'iscrizione e poco più. Quindi diciamo così che il vecchio sistema delle graduatorie dell'anzianità non funziona più. Bisognerebbe, a mio avviso, assegnare alle scuole la possibilità di almeno chiamare in cattedra i supplenti, solo i supplenti, però affidandolo alle scuole direttamente. Nelle scuole c'è un comitato di valutazione e il comitato di valutazione, che è eletto democraticamente all'interno delle scuole, potrebbe tranquillamente dedicarsi alla ricerca dei supplenti. Ancora a scuola, si chiama 6-14 la nuova proposta del Comune di Arezzo per mettere in campo nuove proposte dedicate ai bambini dai 6 ai 14 anni. L'obiettivo è quello di continuare a costruire momenti educativi e ricreativi di qualità che diano risposte, oltre all'orario scolastico, a cura del terzo settore delle realtà di volontariato. Il bando, approvato dalla Giunta, prevede l'erogazione di contributi economici diretti finalizzati alla realizzazione di progetti educativi e ricreativi per l'anno scolastico 2023-2024. La Giunta regionale invece ha approvato una delibera con la quale stanzia 51,1 milioni di euro destinati alle persone con gravissime disabilità per interventi a supporto della permanenza al domicilio. Lo stanziamento deriva dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze. Ai destinatari andrà un contributo variabile da un minimo di 900 o massimo di 1.200 euro al mese se il contributo sarà finalizzato all'assunzione di un assistente personale e da 800 a 1.100 invece se il contributo sarà erogato nei termini di assegno di cura a favore di persone di minore età. Questa mattina invece è stata presentata la variante generale al piano territoriale di coordinamento della provincia di Arezzo e il portale web CIS della pianificazione territoriale. Si tratta di un nuovo e aggiornato piano territoriale di coordinamento il cui obiettivo principale è quello di un rinnovato atto di governo del territorio adeguato all'ente di aria vasta e coerente con il mutato quadro legislativo. Il piano è redatto a seguito dell'accordo sottoscritto con la regione toscana che ha concesso un contributo alle province per l'aggiornamento assegnando a quella retina uno stanziamento pari a 60.000 euro. E sarà proprio Arezzo ad ospitare un convegno nazionale sull'innovazione digitale diventando così per un giorno capitale dello shopping online. Sviluppatori, programmatori, manager ed imprenditori di tutta Italia a confronto sulle più recenti frontiere del business digitale. Arezzo diventerà così per un giorno la capitale dello shopping online. Il commercio ha aiutato tantissimo il processo di vendita perché siamo arrivati in Italia almeno al 20% del venduto attraverso online. Il convegno nazionale Shopify Edition Summer 23 promosso dalla multinazionale canadese Shopify per la prima volta sarà in Italia in modalità in presenza e farà tappa in città il prossimo 14 settembre. Ci saranno delle sorprese eccezionali soprattutto sui nuovi trend dell'intelligenza artificiale, l'omnicanalità e il B2B. Ad Arezzo un vero e proprio laboratorio dedicato all'approfondimento di tematiche all'avanguardia sempre più fondamentali. Sono già diversi anni ma soprattutto dalla pandemia che ci stiamo focalizzando su promuovere l'innovazione tecnologica alla nostra platea, quindi alle nostre imprese perché chiaramente in questo momento d'altronde l'innovazione corre, viaggia e per un'impresa è molto importante essere o non essere presente su piattaforme, poter anche proporre servizi nuovi che non vuol dire sostituire la fisicità del negozio ma vuol dire avere fra virgolette un doppio canale che può permettere all'azienda di essere conosciuta e di lavorare di più. Voltiamo pagina per parlare di monitoraggio idrico in volo sulla Val di Chiana, una mini-mongolfiera speciale. Ora vi farò un gioco di magia. Una piccola e singolare mongolfiera con a bordo uno strumento innovativo che insieme alle attrezzature convenzionali consente di mettere a fuoco lo stato di salute e il comportamento delle piante soprattutto in situazioni di stress idrico determinando il loro fabbisogno in riguo. Questa è la base del progetto PRIN, progetti di rilevante interesse nazionale che vede la collaborazione di diverse università italiane con il Centro Studi Aerospaziali dell'Ateneo di Padova che lo ha messo a punto integrando più discipline. Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il progetto in Toscana gode del supporto logistico e operativo del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. L'apparecchio denominato Atemo pesa due chili e mezzo e può viaggiare su diversi supporti dotato di un computer di bordo e di telecamere con diversi sistemi ottici e di filtraggio che trasmettono dati in continuo. Dall'analisi si ricavano indici utili per misurare il benessere della pianta, la sua vigoria e lo stress idrico. L'irrigatore si vede dove è già passato, che è più scuro. La finalità del progetto è infatti quella di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua attraverso una gestione differenziata dell'irrigazione. Le osservazioni ripetute nel tempo potranno determinare la quantità ideale d'acqua da fornire alle piante. La Lilt di Arezzo è rinata con un nuovo direttivo e una nuova sede. Vediamo il servizio. La Lilt di Arezzo rinasce con un direttivo rinnovato e tanti progetti. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha scelto come una delle sue sedi il centro chirurgico toscano, proprio da qui ha lanciato la nuova stagione. La Lilt è un'organizzazione di volontari che ha lo scopo, è quello, Lega Italiana lotta contro i tumori, è quello di sensibilizzare, di spingere tutte le persone potenzialmente ammalate a seguire le buone regole che oramai sono note per tantissimi tumori, di screening, certamente di screening, ma qualunque tipo di informazione possa essere utile per diagnosticare prima possibile qualunque tipo di tumore, questo è lo scopo della divulgazione della Lilt. Due gli importanti prossimi progetti, il primo ad ottobre, Nastro Rosa, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Il secondo, invece, è previsto a novembre. Ci sono le campagne istituzionali, che sono quelle, la prima è quella del Fiocco Rosa, sono cinque campagne in un anno, ma noi vogliamo affiancare questo, delle iniziative, volte soprattutto a coordinarci con i provveditorati scolastici, perché la scuola e il mondo dello sport, a nostro avviso sono il terreno fertile dove far nascere questa cultura della consapevolezza della salute, dello stare bene, dei corretti stili di vita. Oggi parlare di modello virtuoso sembra quasi dire una cosa cattiva. La virtù sembra un qualcosa di... oggi è abbandonato. Invece dobbiamo far capire l'importanza del modello virtuoso, che è quello che ci aiuta a vivere e a stare meglio. Fondamentale anche la collaborazione con l'ASL? Sicuramente sì, perché tutti i programmi di prevenzione e di informazione devono accompagnarsi poi all'effettuazione di accertamenti strumentali, di visite. Sicuramente è compito dell'ASL garantire l'effettuazione di queste prestazioni. Quindi è sempre auspicabile che queste campagne di informazione si svolgano in coerenza con i programmi dell'ASL e in stretta sinergia e collaborazione. Parliamo ancora di prevenzione. Il zandonato ha aderito all'undicesima edizione della campagna Make Sense. Hai la testa a posto? È il motto di questa edizione italiana. Un monito a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervicocefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali. Lo screening è mirato ad escludere una patologia oncologica carico dei distretti di bocca, ipofaringe e laringe, naso con segni paranasali, la ricerca e l'identificazione di masse del capo e del collo. Dunque screening gratuiti dalla 18 al 22 settembre in oltre 130 centri italiani, tra cui anche l'ospedale San Donato di Arezzo. Il calcite di Arezzo invece torna con la sua consueta maratona in vista del mercatino di Via Fiorentina. Spettacoli, musica, cene e aperitivi in attesa del mercatino di domenica 17 settembre in Via Fiorentina. È così partita la maratona del calcite all'Arezzo Fiere Congressi. Dal 13 inizia la kermesse del calcite in scena, ormai è arrivato al decimo anno e tutte le sere varia dal canto all'esibizione della corrida e il sabato abbiamo un evento particolare che il Polvarone fa la centesima esibizione. La domenica fuori dal centro affari abbiamo il mercatino e lunedì la novità che quest'anno abbiamo cercato di creare è una serata con tutte le associazioni del volontariato per stare insieme per conoscersi e per capire la nostra forza. E quest'anno si porta dalle ore 19 la botteghina di Gragnone viene con la periscena. Il ricavato sarà destinato al servizio scudo di cure domiciliari e oncologiche. Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio che tutti gli anni ci impegna per oltre 340 mila euro all'anno perciò è chiaro che gli sforzi prioritariamente vanno destinati lì. A Montagnano torna la Sagra della Nana il primo fine settimana della cinquantesima edizione in programma da giovedì 14 domenica 17 settembre e proporrà sin da subito un intenso programma delle iniziative che spazieranno come sempre tra gastronomia, musica fiera, folklore e scoperte del territorio. E adesso la pagina dello sport il calcio prende il via oggi la terza fase della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023-2024 preso atto del grande successo e dell'alto numero di sottoscrizioni delle tessere di accesso annuale a città di Arezzo la società ha deciso di dare ancora una possibilità a chi non fosse riuscito ad abbonarsi prima della gara casalinga con la carrarese dello scorso sabato dunque iscrizioni aperte dal oggi sino alle 19 di lunedì 18 settembre e adesso l'atletica sono 10 titoli italiani per l'Algarezzo alla campionato nazionale Aix la manifestazione tricolore giunta alla sua cinquantasettesima edizione è andata in scena a Forlì con la partecipazione di atleti da tutta Italia che si sono confrontati nelle varie specialità di velocità salti e lanci con 16 ragazzi e ragazze della squadra retina che sono riusciti a lasciare il segno con ben 13 medaglie 10 ori 2 argenti e un bronzo risultati che hanno contribuito all'ottimo secondo posto ottenuto dal comitato provinciale di Arezzo nella classifica assoluta del premio della premio di qualità alle spalle del solo comitato provinciale di Roma questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a tutti a ba a a a a a Grazie a tutti.